L'inflazione sta scendendo più rapidamente di quanto avessimo previsto e lo sta facendo in modo particolare in Italia. Se guardiamo ai diversi paesi europei, l'aspettativa di inflazione per quest'anno in Italia è del 2% e è tra i più bassi e questo naturalmente è in parte il riflesso di un rallentamento dell'economia ma è anche in parte una buona notizia per i bilanci familiari e per l'insieme del potere d'acquisto nel nostro paese.